I due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Nina Schirmenti e Marco Matta, hanno provato dissenso dopo le ultime vicende che si sono susseguite nei giorni scorsi a Palazzo del Carmine. Fra tutte, l'estromissione dell'ex assessore al bilancio Luciana Camizzi e della ricandidatura del sindaco alle prossime elezioni. In merito all'autocandidatura di Gambino, io dico che qualsiasi ricandidatura o nuova candidatura, secondo i principi conclamati dal Movimento 5 Stelle e comunque accettati dagli iscritti, deve partire da un confronto e da una condivisione con la base. Cioè qualsiasi autocandidatura può soltanto essere vista come una proposta e disponibilità, non come invece una decisione autonoma, unilaterale e soprattutto monocratica. In merito all'estromissione dell'assessore Camizzi, vorrei sapere in base a quali parametri è stata sfiduciata, visto che ha raggiunto tutti gli obiettivi e ha lavorato in armonia con i principi del nostro movimento. Forse il sindaco si dimentica che è stato democraticamente scelto dalla base del Movimento 5 Stelle. La stessa base che lui ultimamente sta ignorando, vedi l'episodio dell'assessore Camizzi, sono tutti azioni che tendono comunque a rompere i rapporti con la base. Quindi in virtù di queste motivazioni io mi chiedo con quale lista civica il sindaco voglia comunque candidarsi, anche perché forse pensa che da sindaco possa fare a meno dell'apprezzazione della base oppure possa avere qualche corsia preferenziale. Il futuro io purtroppo non posso prevederlo perché le decisioni nazionali spettano degli organi di controllo che si occupano di queste scelte. Posso solo dire che a livello locale c'è comunque una forte spaccatura. Noi durante la campagna elettorale abbiamo dato delle forti indicazioni, abbiamo fatto delle forti promesse che erano ridurre i costi della politica. Sul nostro programma abbiamo inserito l'abbattimento dei costi del Consiglio Comunale, tant'è che abbiamo promesso ai nostri cittadini che comunque ci saremmo limitati a svolgere due sedute di commissione alla settimana, proprio per ridurre i costi. Cosa però che il sindaco non ha fatto, perché anche lui aveva promesso cinque assessori più due a progetto che dovevano alternarsi. Invece ci ritroviamo con nove assessori. Giusto per fare un esempio, Palermo che ha 637 mila abitanti ha 11 assessori, Firenze ne ha 10, soltanto la regione Sicilia ne ha 12. Noi con meno di 60 mila abitanti ne abbiamo 9. Quindi questa è una cosa che io effettivamente non approvo. Comunque io resto all'interno del Movimento 5 Stelle, resto all'interno della maggioranza, vigilerò sull'operatore il sindaco e farò in modo che i principi e i valori del movimento vengano rispettati. Abbiamo contattato il sindaco Roberto Gampino per un'eventuale risposta, ma essendo fuori sede ci farà sapere nei prossimi giorni.